Vedete la zona per le vostre colazioni, venite qua, vi comprate le barrette di frumento a 2 ore e 50, mangiate per una settimana e diventate vegani. A parte gli scherzi, abbiamo il granarolo parzialmente scremato intero, lo usano nei bar perché diciamo che si abbina molto bene al caffè o se volete fare un buon cappuccino schumoso, non per depreciare gli altri tipi di latte, ma devo dire che il granarolo è uno dei più saporiti e poi sulla destra come vedete il reparto intimo per le vostre docce, bagni, dentifrici, il reparto casalinghi, insomma ragazzi qua ci si perde, adesso abbiamo percorso quasi 300 metri dal bancone pescheria fino ad arrivare alla zona piatti, abbiamo con noi oggi una ragazza, come ti chiami? Elisabetta. Lavori qua, qual è il tuo reparto? Pescheria. Allora ti faccio una domanda, siccome eravamo nella pescheria...